A chi giova a provare e riscrivere la Costituzione con un'aula semivuota? Io credo che non serva a nessuno, così come diventa francamente incomprensibile il gioco delle parti. Il centrodestra aveva votato questa riforma al Senato, adesso non la vota più, dicono perché è cambiato il clima e allora bisognerebbe risuscitare il colonnello Bernacca e farla scrivere a lui la Costituzione, però d'altra parte il governo impone le sue notturne per rispettare una data di calendario, finisce per approvare da solo e questo non va bene nemmeno perché ricordiamoci che la maggioranza incarnata dal Partito Democratico è una maggioranza drogata da un premio poi dichiarato incostituzionale e drogata da un truppe cammellate che si sono mosse da altri partiti, sono 184 i parlamentari che hanno cambiato gruppo fino a qui in questa legislatura, assai più di quanti cambiarono casacca nella legislatura scorsa e questo tipo di spettacolo anche contribuisce ad allontanare gli italiani dall'istituzione. Cioè un Parlamento eletto con una legge dichiarata incostituzionale sta riscrivendo la Costituzione? Formalmente si può fare, ma sarebbe molto meglio farlo con una maggiore coralità, perché poi la Costituzione diceva che la mandrei che cos'è, è un pezzo di carta, se la getto per terra non si muove, per farla muovere, per animarla serve un sentimento collettivo, serve un popolo e in questo momento non c'è. Secondo lei qual è in questo momento il ruolo del Capo dello Stato? Questo potrebbe essere il suo primo banco di prova, perché incontrerà a brevissimo anche le opposizioni? Beh, intanto un dovere di ascolto che certamente Mattarella eserciterà. Qualche problema può sopravvenire se la legge elettorale arriva in porto così come è stata scritta, io credo per un profilo che la rende molto problematica, questa legge è tagliata per la sola Camera, però noi intanto abbiamo ancora il Senato e quindi è come cucire un abito che ha una manica sola per una persona che invece le braccia ce le ha entrambe. Allora sì è vero, è stata concepita una clausola di salvaguardia per cui la legge scatta al cos'è il primo luglio 2016, ma chi mi dà la garanzia che il primo luglio 2016 sarà stata perfezionata la riforma del Senato, l'abolizione del Senato elettivo, se ciò non avvenisse ci troveremmo con un sistema schizofrenico. Beh, ma sta nelle facoltà del Presidente della Repubblica non promulgarla? Sì, è un potere del Presidente della Repubblica. Quindi lo potrebbe fare? Potrebbe non promulgarla, però adesso non esercitiamoci nel tiro alla giacca con due maniche, in questo caso del Presidente della Repubblica.